Ok ragazzi, nella giornata di ieri stava girando la voce che ci fosse un codice per poter sbloccare l'Ebron James gratis. Questo codice poi alla fine siamo riusciti a reperirlo, lo abbiamo utilizzato, ma a me non ha funzionato e neanche a molti di voi che ci hanno provato ad utilizzare quel codice sono riusciti appunto poi a sbloccare l'Ebron James. E quindi stiamo parlando di un codice fake, di un codice scam? Era tutta una farsa? Eh no, perché qui abbiamo qualcuno che in realtà ha sbloccato l'Ebron James. Amore vuoi dire qualcosa? Ho avuto una botta di sedere infinita perché erano solo 50.000. Ok raga, appena abbiamo chiuso la registrazione è uscita la notizia che invece di 50.000 sembra che questi codici per sbloccare l'Ebron James fossero solo 2.500 o meglio. Il codice era sempre uno, era sempre quello, ma soltanto in 2.500, quindi i primi 2.500, potevano sbloccare la skin di Lebron James. Quindi ancora più fortuna per quanto riguarda Serena, una cosa allucinante. Possiamo effettivamente considerarla in questo momento la skin più rara del gioco, o meglio, nel momento in cui noi stiamo registrando il video. Perché sicuramente se voi lo state vedendo nei giorni passati, chiaramente la skin poi è uscita nello shop, chissà quanta gente l'avrà shoppata. E niente ragazzi, scusate per questa interruzione, ma poi è uscita questa notizia e quindi vi volevo mettere al corrente. E niente, buona visione. Praticamente ragazzi, questo codice era real, cioè era tutto real. Anch'io non ci credevo appena ho saputo questa notizia. Solo che praticamente... Dov'è che l'hanno piazzato? Sul sito Nike delle scarpe queste prove di Lebron James. Era lì. Ok, ok. Praticamente hanno piazzato questo codice un po' così. Sembrava una sorta di easter egg. Se mi inviti gliele faccio vedere. Sì, infatti sì, intanto ti invito. Perché sono le scarpe della skin. Intanto ti invito. E praticamente ragazzi, i primi 50.000, ma nel mondo eh, Cioè, regà, mo 50.000 sembra un numero esagerato, ma fidatevi che nel mondo comunque è poco. E ha funzionato. Cioè, Serena è riuscito a sbloccare. Ma quanto è bello sto stile. Faccio vedere anche l'altro del taco. Ovviamente questo stile dei Looney Tunes, perché l'hanno fatto, amore? Per Space Jam. Perché hanno fatto, ovviamente, Space Jam 2, no? Si può dire. Space Jam 2. Con Lebron James, il primo appunto con Michael Jordan. Lo fecero. E niente, regà, guardate che bello. Cioè, troppo bello. Troppo bello. Io, tra l'altro, ragazzi, sto registrando questo video martedì 13 sera. Quindi, per esempio, ancora non è cambiato il negozio oggetti. E non so se la skin di Lebron James è uscita oggi, ovvero mercoledì 14, mentre voi state vedendo questo video. Oppure uscirà il 15, perché c'era chi diceva che usciva il 14, chi diceva che usciva il 15, poi con i vari problemi di fuso orario ce stanno sempre casini, quindi, ragazzi, insomma, non si sa. Però ecco, volevamo fare questo video per, comunque, chiarire questa storia di Lebron James gratis, oppure no. Ovviamente, ragazzi, io vi ricordo del negozio oggetti di Fortnite di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato, per supportarmi. Mi raccomando, ragazzuoli, è fondamentale. Controllate che in basso a destra, appunto, sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie avvero di cuore a chi lo farà, è davvero importantissimo per supportarmi. Lasciate un bel mi piace per l'enorme fortuna di Serena, ragazzi, qualcosa di pazzesco, incredibile. Ecco, un'altra prova che è martedì sera, Coppa Hype, stavo messo in automatico. Ah, sì, la Coppa Hype, regà, è vero. Regà, cioè, solo perché c'ho la Coppa Hype e la Coppa Cash potete capire che sto registrando martedì sera. Questa è proprio la prova che vi fa capire un attino. Ma anche il negozio, regà, c'è il negozio, vedete, è quello di martedì. Quella prova assoluta. Sì, sì, è vero, è vero, hai fatto bene a dirlo. E... Cioè, stiamo provando il fatto che comunque Lebron James non è ancora uscito come skin e soprattutto fidatevi che... Ma perché mi mette la Coppa Hype in automatico? Voglio fare i coppie normali? Vabbè, intanto mettiamo pronto a sto punto. Fidatevi che Serena non ha zii, nonni, parenti in Epic Games. Cioè, non gliel'hanno regalata quelli di Epic Games. È stata solo velocità. È stata solo velocità. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non questo è fatto. E adesso direi, appunto, di andare a giocarci questa partita con un Lebron James. Sarebbe stato spettacolare giocarlo in due, però purtroppo, ragazzi, io non ce l'ho fatta. Sia perché inizialmente ero un po' scettico, e poi perché essendo io in live l'ha provato prima lei per testarlo, ci è riuscita, l'ha detto a me, ci ha messo un botto a loggare e tutto, e niente. Poi, tra l'altro, ero in live, quindi... Rip, però. Poi, comunque, raga, appunto, chi era in live, eravamo tipo sette, ottocento spettatori, l'avrà visto, insomma. Ma io direi di scrutarla per bene, no? Guarda, qui dietro. Ah, sì, sì, sì. Mamma mia. Che spettacolo. Raga, comunque, questa qui, la versione di Luneditoons, è spettacolare. Mamma mia. Che bella. Tanta, tanta roba. Tanta, tanta roba. Bello, bello, bello. Non vedo l'ora di sciopparla, ragazzi. Ah, sì, comunque, ragazzi, abbiamo restartato la partita perché così almeno Serena mi ha detto che siamo in pandan per quanto riguarda Lebron James con la maglietta, eccetera, e va bene. Allora, allora, con un taglio del genere, in realtà, boh, ma direi facciamoci una partita tranquilla, ragazzi. Direi di andare magari verso Moli. Intentiamo Moli. Passi. No, ce l'hai sopra. Non so, però posso l'arma. 85. Ok, atterrato, 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 atterrato. Il signorino qui. Ok, c'è una mitra. Ho atterrato un altro io. Quindi è andato a terra? Sì. Ok, quindi c'è altra gente. C'è almeno due team. No, qualcuno ha preso l'UFO. Eh, questo ha quittato. Eh, ma qualcuno ha preso l'UFO. Qualcuno ha preso l'UFO, ragazzi. Questo potrebbe essere un problema? No, perché forse sei andato? Non ho capito. Vabbè, comunque rimaniamo gli occhi aperti perché mi sa che c'è un altro po' di gente. Oh, eccoli. Stanno qui. No, forse un po' più... Ho pingato troppo giù. Ho cercato di prendermi. Sì. È one shot, ok. Ah, ecco il compagno. Ma come un'altra terra? Ma quanti team sono? Ok. Ma quanti team sono? Cioè, regà, quanta gente c'è venuta a Moli? Tra l'altro, ragazzi, stranissimo. Siamo anche in safe. Boh, non lo so. Ora mi scende una lacrimuccia. Veramente, regà, ormai sempre lontana, sempre a correre, invece oggi ho un po' di fortuna. Per adesso. Per adesso. Non cantiamo vittoria troppo presto. Potere di Lebron James. È vero, potrebbe essere il potere di Lebron James. Tra l'altro, aspetta, vieni qua, ma facci un ballettino. Faccelo un pochettino vedere. Flexala un po'. Flexala un po'. Che potrei fare. È uguale, è uguale, qualsiasi. Bene, c'è il BTS, così è molto, molto gaio. Ma, 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 che cacchio? Hai visto? Cioè, aveva la barra tipo come se fosse un NPC qui a parlare. Mi sa, hanno ucciso qui l'NPC, ma era rimasto buggato. Ah, no, eccolo. LOL, regà. Ma che fa? Ma l'effetto del balletto mi sa che tu non lo vedi. Mi sa che questo... Esatto, balla, amore, balla con lui, che ti fulla. Balla con lui. Mi sa pagato l'oro. Tra l'altro, regà, ma perché hanno fatto fare a Tracannus il balletto della pizza? Cioè, che... Perché? Non sto capendo, va bene. Ah, regà, io per non sapere leggere e scrivere mi sono potenziato qui il TAC. Abbiamo trovato anche lo SCAR nella chest cosmica, ma degli avversari neanche l'ombra. Stiamo vedendo soltanto un po' di strutture buttate qui e là, di gente che ha faitato. Però, purtroppo, non stiamo ancora trovando i nemici. Quindi li stiamo ancora cercando. Poi, essendo al centro della safe, regà, non ci sembra neanche il caso di spostarci più di tanto. Ok, regà. Abbiamo sentito degli spari provenienti da qui. Ci siamo allontanati dal centro della safe. Però almeno facciamo qualcosa. Allora, ho visto le loro strutture, ma... Non ho visto loro, ora sì, e l'ho lisciato. Molto bene. Ah, lì sotto. Sì. Ok, 85 a quello, l'ho preso. Occhio, eh, sì, sì. Oh! Attenzione. Ok, ma non mi è entrato il colpo. Non mi era entrato un colpo di pompa? Oddio, regà, mi è sembrato di... Qua c'è un pump blu, se vuoi. No, mi sono fatto il tac di giola. Ok. Ti serve l'uccildone? Eeeh... No, no, sì, ma non me lo faccio. Per 18 non me lo faccio. Non ti preoccupare. Eeeh... Questo non era... Era andato giù a terra, vè? Non è morto subito, però. No, mi sa che è morto. Morto? Allora, quell'altro era... Allora hai finito tu. Eh, lo sai? Non me lo ricordo. Madonna, regà. Che memoria da gallina. Non mi ricordo se... Ah, passi, 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 passi qui. Sta qua sotto. Macchina. Ucciso. Davvero? Ah, grande, amore. Pensavo fossi più dietro e mi dico, oddio, che ne ha ucciso un altro? Non ho ucciso questo? Dico, ma che è successo? Allora, mi sa che questo qui era il compagno di quello che abbiamo ucciso prima e l'ho finito, magari. Boh. Eh, boh, non lo so. Comunque, regà, siamo rimasti in 13... Quanti team? No, ecco un altro. Ah, eccolo lì. Ah, passi dietro, passi dietro anche. Eh, ma ne abbiamo due qua davanti, eh. Eh, lo so, lo so, ma questo qui sennò ce la serava da dietro. Stai attenta, amore, stai attenta. Eh, rivieni da me se riesci. Io quelli là non li volevo pushare neanche perché stanno fuori safe. Aspetta, te l'ho atterrato, ok? Aspetta, ti aiuto. Te l'hai atterrato, gli ho rotto lo shield, amore, gli ho rotto lo shield. Eh, one shot. Ho già da poca vita, anche io. Eh, rip. Ok, ho ucciso. Mi tocca pure corre. Eh, infatti io per quello lì non li volevo andare a pushare. Oh, è un bel problema. Jump, 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 jump. Ce l'hai? Sì. Eh, però... Ok. Te lo lascio? Sì. Ok. Non so se la vogliamo mettere. Vieni a destra, amore, vieni a destra, vieni a destra. C'è qualcuno nel grano? C'è qualcuno nel grano? Eh, ma appunto, appunto, appunto. Vieni a destra, di qua. Speriamo che sia messo male. Cerchiamo di andare lì dentro a campelare. Mi lasse alle spalle quello nel grano. Ti copro io, ti copro io, ti copro io. Mi devo curare per forza. Vai, vai, non stanno neanche sparando a noi. È per quello. C'ho tre medikit per te. Uh, ci sta tenendo sotto occhio da lì, eh. Da dietro le nostre strutture lì giù. E infatti noi ci sta sparando. Eh, attento se... Ci fai esplodere tutto. 85? Che c'è chi è? Traccato. Ok, ok, ok. Oddio. No, colpito il lanciarazzio. Oh, non ci credo, che sfiga. Ma è taitato il lanciarazzio o l'ho già preso danno? No, il tipo mi aveva fatto danno. Allora, c'ho altri medikit, eh. Ma regà, ma che è? Con me poi. Ma infatti. Ok, ho trovato lo spas. Boh, regà, fidiamoci dello spas. C'è anche un pompa... Eh, uno scudo per te, amore. Ma io non so se dà fastidio a questo. Eh, a questo pure. No, si è protetto all'ultimo. Peccato. Ok, ok. Ok, 85. Occhio anche a sinistra, eh, amore. Occhio a sinistra che potrebbero romperci le scatole, eh. Ok, dopo aver rotto le scatole a quelli... Ora rompo le scatole anche un po' questi qua. C'è uno qua dietro. Eh, arrivo, 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 arrivo. Ma è dentro safe o se è camperato dentro qualcosa? Non lo so, sicura? Mi sa che è dietro quest'albero. Sì. Non ci credo. Ma come non mi è entrato neanche sto colpo? Regà, ma non mi stanno entrando i colpi di pompa? Ma non ho capito. Mi stanno facendo tutti... Tutte ghost hit le... Le pompate. Non so, sarò io ciecato. Non capisco. Ma è da prima, in realtà. Cioè, non è che lo sto diventando tutto a caso. Tieni, io ce n'ho 12, tiè. Vai. Allora. Nooo, di poco, in realtà. Di poco. C'è anche gente là? Sì. Come non è... Eh, vabbè, questo ok ci può anche stare, non si è entrato. Ok, 85 a quello lì. Mamma mia, regà. Cioè, si sta chiudendo... La tempesta qui, ma... No, amore. Rip. Non so se ne fossero andate, non me ne ero accorta che erano ancora... No, erano due team lì, perché? Riesci a scendere? Eh, stanno pushando, vedi. Rip. Eh, ma mi niediti? Sono sceso, sono sceso però io, eh. Eh, ma non so qui. Eh, no, stanno proprio qui. Oddio. Non è mo... Nooo, è arrivato l'altro. Mannaggia la misera, ragazzi. Che sfiga, però. 27 di vita l'ho lasciato questo qui. Non mi voleva morire. Con lo spas viola non l'abbiamo fatto neanche troppi danni. Però, regà, ormai è imbarazzante. Anche l'altra volta, l'ultimo video che abbiamo fatto con te... Eravamo arrivati in endgame che eravamo tipo in 20, regà. Ma in duo, normali, pubbliche, normali. Poi, dici, sai, sto giocando con un altro player che è un pro player. Sto giocando con uno che mi fa trovare un matchmaking incredibile. No, sto giocando con Serena che... Con tutto rispetto, amore, ti amo. Sono scarsa, lo so che sono scarsa. Cioè, più che altro, troviamo anche gente che comunque sta lì e... E builda anche bene, insomma. Ma vabbè, peccato, ragazzi, peccato. Comunque. Guarda lì la faccia. Sì, 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 no, fa troppo lì con qua linguetta un po' così. Regà, mi raccomando, vi ricordo. Codice creatore GGYT. Tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite per supportarmi. Mi raccomando, è fondamentale. Lascia un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ho questo fatto. Spero sia stata chiara l'intro che abbiamo fatto dove vi abbiamo spiegato la situazione LeBron James. Appunto, è uscito questo codice promozionale da parte di Nike con quelle scarpe. E 50.000 fortunati in tutto il mondo sono riusciti a sbloccare, appunto, la skin di LeBron James. Che probabilmente in questo momento è stata la skin più rara del gioco finché non uscirà effettivamente nel negozio. Per noi tutti ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi.